Siamo arrivati a mille iscritti. Wow, veramente, io non so come ringraziarvi. Quest'ultimo anno è stato qualcosa di fenomenale grazie a voi e spero sinceramente che continui così negli anni a venire. Quindi, come piccolo ringraziamento per questo anno insieme, ho deciso di fare questo piccolo video in cui darvi alcune curiosità su di me che spesso mi avete chiesto nei commenti e nelle ultime live. La prima curiosità che molti di voi probabilmente avranno notato nella live del 26 dicembre è che adoro leggere manga e fumetti occidentali più in generale, in retti sbagliati migliaia negli anni, tra acquisti personali e soprattutto grazie a quella bellissima invenzione che sono le biblioteche. Se non le usate, sfruttatele, ragazzi. Sono veramente una cosa meravigliosa. Un'altra curiosità su di me che potreste non sapere è che in generale faccio video su YouTube da ormai quasi 9 anni. Gestisco più di 20 canali YouTube, alcuni attivi e alcuni morti nel corso degli anni. Quali sono rimarrà un segreto almeno fine ai 10.000, non so se tenerlo fino ai 100.000, vedremo. Ma di sicuro per adesso, quali sono specifici? È tutto un segreto che comunque alcuni di voi potrebbero scoprire. Un'altra cosa su di me che potreste non sapere è che adoro fare pallavolo. Lo faccio da ormai 10 anni e gioco in banda. Sì, non c'entra nulla con Borderlands, ma è comunque una cosa che adoro. È una mia grande passione. Una cosa invece che molti miei amici, una volta averla saputa, mi hanno trattato quasi male, è che... Non ditelo a nessuno, ma io ho adorato Anthem, anche con tutti i problemi che aveva. È veramente uno dei giochi migliori a cui abbia giocato, per quanto abbia migliaia di problemi irrisolvibili ed è per questo che è stato abbandonato da molti. Ma io veramente l'odoro alla follia e spero faranno un altro gioco così prima o poi. E infine, il migliore per ultimo, la domanda che veramente tanti di voi mi avete fatto nelle ultime live, nei commenti, nel corso di questo anno. Quali sono i miei giochi preferiti o i giochi su cui ho messo più ore? E se Borderlands o Borderlands 3 è effettivamente tra questi? Allora, parto dicendo che Borderlands è sicuramente una delle mie saghe preferite, adoro il 2, adoro il 3, allo stesso modo così come adoro il pre-sequel. Ma non è né il gioco migliore in assoluto secondo me, né quello su cui ho più ore. È circa al quarto posto. Al terzo c'è Rocket League, su cui ho più ore e che, a livello di gioco competitivo, è il mio preferito. Lo state vedendo sotto, sono campione 2 a livello di ranking e se sapete che livello è, comunque abbastanza alto. Al secondo posto devo, purtroppo, inserire League of Legends. Mi sono disintossicato da quel gioco, per fortuna, ma... Negli ultimi dieci anni devo averci buttato almeno 2.500 ore, forse 3.000. Troppe ore e purtroppo troppi soldi su quel gioco. Non vi consiglio di iniziarlo. Ormai è troppo complicato ed è una trappola, praticamente. Prenderà tutto il vostro tempo. E infine, i giochi su cui ho più ore in assoluto e la mia saga preferita allo stesso tempo, ne ho parlato un pochino in live, qualcuno di voi potrebbe averlo capito, la saga dei Ratchet & Clank. Nello specifico, la trilogia originale per PlayStation 2, compreso poi anche Ratchet 4 o Gladiator o Deadlocked, dipende dove vivete, e i due usciti per PSP, Secret Agent Clank e Ratchet & Clank. L'altezza non conta. Quelli sono i miei giochi preferiti. Da quando ho avuto una console per la prima volta, ed ero molto piccolo quando l'ho avuta, e me ne sono innamorato. E continuo tuttora a giocarci con una PlayStation 2 che, come ben sapete, è uscita più di vent'anni fa. E ancora funziona. Quindi immaginatevi voi. Questo era tutto. Spero che questo piccolo speciale su alcune curiosità che mi avete posto negli anni, anzi nei mesi, vi sia piaciuto e... Se volete qualche curiosità in più, beh, bisognerà arrivare a 10.000 iscritti prima. Grazie di nuovo a tutti. Grazie. Grazie a tutti.